Allora Cesara, chi è il tuo immune? Una donna che non ha paura di nulla, Beatrice. Non ci credo. Sei una grandissima signora. Grazie, perché abbiamo avuto un confronto sincero e apprezzo moltissimo la generosità con cui... Beh, perché è venuta a baciarti qua in studio. No, grazie Cesara. Grazie. Ma di che? Alfonso vuole parlare a Rosanna? Dimmi Rosanna. Della signora Luzzi, quando è venuta a sedersi mi ha detto spostati, fatti più in là che non voglio sedermi vicino a te. No, vicino, attaccata. Mi hai detto queste parole, non voglio sedermi vicino a te. Perché non voglio stare attaccata a te. Perché? Ho detto la verità. Allora, che lei mandi il messaggio che io non amo il Natale la Luzzi per farsi in confessionale ha fatto di tutto, ha usato le persone. Io non ho mai usato nessuno per farmi un nome. Intanto io non sto usando, io sto usando soltanto me stessa. È la signora della canzone italiana, te l'ha detto dove ha cantato. Allora, intanto io sto usando solo me stessa, non sto usando nessuno, al contrario di tutti gli altri. Primo, secondo, 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 ho detto sei entrata in gioco stasera. No, non hai detto sei entrata in gioco. Ho detto sei entrata in gioco stasera. Tu hai detto sei entrata al GF grazie a me. Ah, tu sei entrata in gioco. Leggeti il mio curriculum. Vabbè, manderanno il video. Vi racconta. Let's do. Vi raccontare l'annu block. Lusi di Dio pot이라는 Wardone è videoclable. Vabbè, manderanno il Malaysia che Marketplace. C'è entrata in gioco più grellisamente. Lusi di Dio con il tua dicolo.